Camisano Vicentino, occhio malocchio, prezzemole finocchio, quasi quasi ci siamo, perché è un bell'incantesimo che sa di imbroglio, la maga Cabiria l'aveva fatta una pensionata. Un tocco di bacchetta, qualche erba magica e l'anziana, una 74enne del Pavese, aveva bevuto non una magica pozione, ma la storia che il figlio, in realtà da anni malato, era in balia di satana. Per liberarlo del male doveva pagare 50.000 euro, ma quel figlio non era guarito per nulla, così la cliente della fattucchiera, conosciuta attraverso un programma tv, a sporto denuncia. La maga e il marito sono stati condannati per truffa pluriaggravata a un anno e otto mesi di reclusione ciascuno e una multa di 800 euro. Per loro inutile ogni abracadabra.